Gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sala Consilina Viscigliete e dell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone di Sassano hanno preso parte nel corso dell'anno scolastico 2023-2024 a diverse attività promosse in occasione di due importanti progetti realizzati nell'ambito del programma della Regione Campagna Scuola Viva. Nei giorni scorsi si sono svolte le giornate conclusive di entrambi i progetti, con la consegna degli attestati ai ragazzi partecipanti. In particolare il progetto realizzato dall'Istituto Comprensivo Sala Consilina Viscigliete si intitola A Scuola Liberamente ed è nato con l'obiettivo di supportare tutti gli attori della comunità scolastica e di promuovere il benessere psichico, fisico e sociale della comunità educativa e territoriale. È stato caratterizzato da cinque moduli, partecipo Ergo Sum, musica e spazio, lo sport si racconta con la storia, trekking nel parco e sportivi si rinasce giocando con il karate. La giornata conclusiva si è svolta presso l'Auditorium Cirillo ad Atena Lucana Scalo. Al Cineteatro Totò a Sassano invece si è tenuto l'incontro conclusivo del progetto realizzato dall'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone di Sassano, denominato Ricominciamo da qui. Il progetto è nato con l'obiettivo di accrescere il potenziale degli studenti partecipanti, partendo dalla consapevolezza che la scuola deve svolgere un ruolo centrale al fine di fornire agli studenti gli strumenti necessari per elevare la propria persona e per superare gli ostacoli del territorio. È stato suddiviso in cinque moduli, laboratorio artistico fare per imparare, musica in movimento, a piedi nudi, make your way around the world e a scuola di legalità. Nel corso delle due giornate conclusive per entrambe i progetti, alla presenza di docenti e tutor e della dirigente scolastica Patrizia Giovanna Pagano, sono state quindi illustrate le attività dei vari moduli e consegnati gli attestati agli alunni, diversi partner che hanno preso parte alla realizzazione dei due progetti. A scuola liberamente ha visto il sostegno di IESAC, FOSAPA, Associazione Astro Campagna, ASD Heracles e Cooperativa Ruffium. Hanno collaborato a Ricominciamo da qui la diocesi di Tegiano Policastro, Cooperativa Paradosis, FOSAPA, Biblioteca Comunale di Sala Consilina, ASD Heracles, Associazione La Vite è un Ciclo e Cooperativa Ecomuseo, Valle delle Orchidee e Antiche Coltivazioni.